Ciao a tutti, qui Alassio e oggi ci troviamo in un nuovissimo video su Dragon Ball Legends Allora, questo è il secondo video che faccio su Dragon Ball Legends Avrei detto che avrei portato molto più spesso Dragon Ball Legends Però, cioè, non ci sono molti eventi attualmente da fare Quindi, come vedete, sto conservando pure il Crono Crystal Proprio per aspettare un'eventuale batch molto bella da pullarci Infatti, adesso c'è la batch, se vi faccio vedere, di C17 e C18 Che non è chissà che Cioè, io ho i Digat, che trovo andremo a pullare, non vi preoccupate Ehm, c'è, c'è Vegeta, che ho già Krilin e me I due androdi, sì, sono carini, ma... E' quel Goku che ha l'artwork copiato, sputolatamente, dalla compilizzazione del DocMatt Che sarebbe il Goku a GL, se ne sbaglio Intanto, per iniziare, ci facciamo una singola, giusto per... Giusto per iniziare il video E poi faremo un pochettino di PvP e poi andremo a pullare i Digat Intanto il caricamento... Vabbè, i caricamenti di questo gioco... Vabbè, schifiamo... Una navicella che schif... No! No, basta, per favore, gioco, basta, Pan Per favore Tanto nei Digat, cioè, sono in una batch di Digat, cioè, Pan L'altro non può esserci, perciò Se mi esci pure il 2, non può esserci veramente Io dici, stanno il gioco Non può essere O tra poco porto Pan alle stelle massime Non so, manco quant'è Intanto, cioè, proviamo a fare una rating match con questo team Vedete, sono rank 20 Non è che ho giocato molto a PvP Però da poco si è risettata la stagione Ieri, se non sbaglio, da quando sto registrando E quindi, cioè, sto di nuovo a rank 20 Che è arrivato tipo a rank 30 quasi Ok, questo c'ha dei PG belli pompati Allora, int Lui giocherà, secondo me, per primo No, piccolo no, madonna, ragazzi Piccolo a livello 1500 immortale Non si può shottare, piccolo a 1500 Allora, proviamo Goku gone Eh, però, no, 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 no Broly Contro il suo Goku Ah, pure cacchio, broly Eh, ma un problema Così, così, dovrei farlo Perché per provare a shottare quel piccolo, eh Eh, devo sperare che non abbia messo broly Si ha messo broly a Jedi Ce l'ho un pochettino in quel post Spero di no Perché sennò avrei dovuto mettere Gini Però se metto Gini Era debole contro Vegeta Che però, se non mettevo con fisico Non potevo shottare Vegeta Madonna, è un bordello È un bordello Speriamo che non lagga il tizio Speriamo Perché quasi tutte le partite che ho fatto Lagga Cioè Sto gioco il lag è un tutt'uno Dando i caricamenti, come ho detto Infiniti per caricare la partita Eh, sarà molto difficile questo È vero che adesso sono bestie di livello 1500 Quindi sono tutti bombati i personaggi Sono proprio delle bestie piccole E diventare immortale veramente Cioè non subisce danno Ecco Non me lo avevo ficciato Vabbè Guarda, guarda che mi attraversa Oh Cristo Mi mangio il frutto Così li pompo Oh, attacca Oh, attacca Vabbè, io sto raffando Ma non attacca Ok Ho fatto una spesa Grazie, gioco Wow Non ci credo Guarda come sta laggando Guarda che gioco Come sta laggando Ok, devo provare Oh, però è piccolo Vabbè, livello che non è livello 1500 Perché ho trovato in PvP Un piccolo livello 1500 Che era pompato come una merda Cioè non moriva Io l'avrò fatto Due Rising Rush Io ho fatto E non è morto Cazzo Hai già Questo ha fatto male Eh, sì Madonna Si è rigenerato Mannaccia La miseria Ecco Non mi fa la scuola Ok Guarda che sto cliccando E non va Guarda il livello Vabbè, dai, gioco Però dillo che mi vuoi far perdere Dai, dillo Lo devi dire Dillo che devo perdere Guarda come laggando Guarda come sta laggando Sto tizio Che correzione di merda Che c'ha Madonna Ah, mi sono ucciso Perché 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 mi sono ucciso Boh Boh Eh, muori Cacchio Guarda come sta laggando La laggando di merda Posso avere dovuto fare la scuola Perché lui non la dovrebbe avere Adesso Ah, ti ho fatto Ok, due pari Che no? E' laggando Mai non ci credo Ah, mi baffo con, ho capito Lo devo scrittare malamente Vi stesse tutte e due hint Vaffanculo Merda Ok Caricati Switch Che bella Ok Caricati No, vabbè No, vabbè Ok, fai tanto danno Non me lo fa visto Con fisica Vai, vai Fagli danno tu Vai, coni Bella Ma è scarsissimo questo A parte che l'ha aiutato Il laggo Fino ad ora Ma Quante volte Lui viene dentro Di colpi Madonna Sandra Il pvp C'è fatto male Su sto gioco Cacchio Servi di bandai Fanno schifo al cazzo Perché adesso fa più danno Non ho capito Ah, con le specie Mi ha fatto più danno Vabbè Lui è Infatti si baffa la specie Balla Balla Bellissimo Margo Finissimo Ok, 4 mila Cacchio, cacchio Fai la specie Fai la specie Eh, c'è questo Ok Fai un attacco Fai un attacco Dai Fai un attacco Fai un attacco Fai un attacco Oh Eh, lagga No, lagga Il mio quid Guarda come lagga Che schifo Il pvp di sto gioco Fa schifo Già mi è passata La volontà di registrare Madonna Ma muori Muori male Gaffanculo Che schifo Come lagga Vabbè I miei pronostici Di fare più Partire pvp È andata in fallimento Perché dopo che ho visto Che lagga come la merda Vado a fare uno story event Non lo so Vi porto lo story event Giusto per Giusto per Per portarvi Un pochettino di contenuto Su legend Visto che non c'è niente Cioè a parte fare le missioni Che quelle me le faccio Per i conti Per i fatti miei Cioè non so cosa portarvi Allora io ho provato a fare C18 Ma sono morto Perché non pensavo Che il livello 1500 Fosse OP Cioè non subisce danni Io ora provo a farmi un team Tutto hint Intanto arriviamo Sì sta merda Ma lo facciamo qua Allora Metto Ehm Dove è Tarles 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 Qualche altro hint Forte Niente Niente Perfetto Perfettissimo proprio Ho conferma Provo a fare con questo team Ci provo Non so Sono morto malamente Perché non ho i personaggi Al mille e cinque Ve l'ho detto Per quanto portare I personaggi Al livello 1500 Sono delle bestie Degli animali Proprio Poi provare così Non lo so Cioè sto facendo I tentativi Provo con voi Boh Tante volte ci riesco Boh Perché non subisce danni E lei Contro qualsiasi Quello ve ne fa un botto Io ci ho provato A usare Tarles Ma c'è subito Un casino Proprio di danni Ok Bravissimo Guardate Guardate Io gli faccio danni Cioè Immortale Ma devo giocare Proprio bene Poi Proprio 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 No cacchio E mi ha fatto Mannaccia la miseria Ma ti sconfiggerà Tu marito Ok Io lo Rasa ingrascia Cazzo 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 Mannaccia la miseria Eh ma guarda Guarda che schifo Non mi fa dire cose Che non voglio dire Ok questo gli rivela forse No possiamo Allora Lei può pure anche Annullarvi il racing crash Perché l'intelligenza artificiale È un bastardo di meno Però stavolta Non me l'ha annullato Ok Io ho fatto un pochettino Di danno Ok Switch Ok Ricarica il racing crash Vai Jais Fai Magma power Porco Dia Manaccia la miseria Dai Fatti Ok Switch No cacchio Ho sbagliato Io Sbagliato Io Dai prendila No L'ha schifata Mannaccia la miseria Guardala 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 Basta Dai non mi uccide Dalla Su Ok Faccio così Non dovrebbe avere Bravissimo Vi devo fare Tutto il danno Possibile Ok Caricati Dai Facciamo qualcosa Bravissimo Dove Switch Ok Tartaruga O The Sulto Training Ok Sto facendo Danno Piano Piano È un Parto Vero No Perché Madonna Perché Non vanno I tasti Guarda Guarda Schiva Madonna 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 Il danno Madonna Santa Fammi qualcosa Fammi una spesa Fammi una spesa Fammi una spesa No 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 Perché Ha dato No No Non ci credo Stavo schivando Non ci voglio mai Credere Perché Ha dato La pallina Sto schivando Eh Gioco Ah Meno male Cioè La dovrei aver fatta Credo Credo Se Entri Se si ingraschi Se lo fa Se non entra C'è un pochettino In quel posto Speriamo Sì Fatto Grande Continua Si può fare Allora È fattibile Anche se non le persone C'è un pochettino Ce l'ho fatta Carino Carino Come vedete C'è il nuovo evento Che hanno aggiunto Niente di che Per portare il personaggio A livellare Però Andiamo a accettare le missioni E andiamo a fare le pulle Spero che per ferragosto Pure su legends A parte doc Mettono qualcosa di buono Di decente Perché Cioè Legends A parte fare PvP Che vi danno Di crono crystal Pullare ogni tanto Quando esce qualche bacio Decente Non è che ci sia Un gran che Come cosa Nel gioco A parte che C'è Le ultime baci Di harless Ce l'ho speso 2.000 3.000 Crono crystal E ho trovato solo Di harless Cioè Per farvi un esempio Ah Poi quando uscì Che bacio era Ah Quella di Trunks E Vegeta Ci spesi Sui 4.000 Crono crystal Non trovai niente Nemmeno una sparking Cioè Rait proprio di merda Vabbè Proviamo questa Singola Salmon Fidigate Che è Sss Sparking Garantita Proviamo Speriamo In Vegeta Che non ho Quando ci scommettiamo Che panna Sicuro 100% Che panna Intanto fringere Le prendo Va bene Sì Sì Da Sparking Garantita Vai Bravo Bravo Bravissimo Pizzer Implode Pi Oh Non ce l'avevo Sì Posso avere Il tank Definitivo Del gioco Sì Ok Non ce l'avevo Buona Buona Facciamo pure qua Sparking Garantita Buona Buona Meno male Non mi ha dato L'ennesima Panna O l'ennesimo Piccon O per quando Come volete chiamare Altra Sparking Garantita Vediamo L'animazione Extrima Ah ecco Pensavo Ho detto Che è un troll Vegeta Porta tre stelle Non so se è carino Però Non è Poi adesso uno nuovo Tra tutti quelli che ci sono È di nuovo Vegeta Però adesso Mi dovrebbe dare uno nuovo Perché la percentuale È dalla mia parte Dovrebbe Si spera Ok Ciao Bye bye Come cazzo Ok Goku Oh Ma non l'avevo mai visto Bella La mia Instant transmission E la madonna L'ho aperto in due Krilin Andiamo avanti C'è E Krilin Non so neanche cosa fa Come me lo fa vedere Dettagli Bella vita Ok Ability Main ability Restore Only Alert By Main And Cancel Tribute Meno 500 Enemiche Recover Faccio Carino C'è Lui Recover 20% Di HP Tutta Il team E Per 5 Timer Cioè Per 5 Secondi La Toglie Il 100% Di Recovery Al Nemico Cioè Non può Usare Non può Recuperare Chi Bello 19% Due Blue Base Strike Blast Defense During Battle Carino Carino Restore Nel 25 C'era Cos'è Better Member Ah Bello Quando viene Switchato Per 10 Secondi Appena Entrato 15 Per 100 Danni Non male Come Cioè A parte Implodere Questo E Buono Vabbè Ragazzi Spero Che Il Video Vi Si Piaci Come Come Vedete Legends Non lo sto Portando Non perché Io Non voglio Ma perché Non c'è Niente A parte PvP E questi Eventi Ogni Tanto Ma Niente Di Che E Quindi Ci vediamo Ad un Prossimo Video